Amici, buonasera a tutti. In quest'ore il Movimento 5 Stelle rischia davvero di finire in una trappola e trascinare con sé l'intero Paese. Questa eventualità però può e deve essere scongiurata. Si parla infatti di un possibile accordo del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico e che il PD avrebbe già proposto dei punti per questo accordo. Tutti punti negoziabili tranne il primo, sudditanza completa all'Unione Europea. Certo, loro la chiamano lealtà, ma è anche vero che si è leali con qualcuno che è stato leale con noi in passato. Se invece siamo leali con qualcuno che in passato ha provato a schiacciarci, non si parla di realtà ma si parla di sudditanza ed è quello che il Partito Democratico vorrebbe imporre al Movimento 5 Stelle. Voi capirete bene che se come primo punto metti la sudditanza all'Unione Europea, dopo puoi mettere qualsiasi altro punto, ma ogni proposta verrà disattivata ed intercettata dal primo punto. Mi spiego meglio. Quando è messo nel primo punto la sudditanza all'Unione Europea, cosa pensate che significhi per esempio politica sull'immigrazione? Altro non vorrebbe dire che il rispetto del trattato di Dublino vuol dire che va all'Italia la responsabilità di tutti quelli che arrivano sul nostro territorio. Vuol dire che non puoi fermare gli sbacchi, vuol dire che devi continuare a far arricchire quelle poche organizzazioni che sfruttano da sempre il business dell'immigrazione. Questo a danno degli italiani che si troverebbero invece a vivere in un vero e proprio centro accoglienza a cielo aperto. Cosa vuol dire politiche del lavoro secondo la lealtà all'Europa? Vuol dire sfruttamento dei nuovi schiavi che abbiamo importato? Vuol dire competizione tra i lavoratori? Vuol dire che va avanti soltanto chi è disposto a lavorare di più guadagnando di meno? Vuol dire che le aziende vanno via e delocalizzano per andare in paesi dove pagano meno tasse e dove è meno costoso il costo del lavoro? Vuol dire lasciare per strada migliaia di lavoratori colpevoli soltanto di essere nati in un paese che ancora gli vorrebbe preservare qualche diritto conquistato con anni di lotta e quindi oggi non vanno più bene per le dinamiche del neoliberismo dominante imposto da questa Unione Europea. Lealtà all'Europa vorrebbe quindi dire lotta ai lavoratori per gli interessi del capitale in un paese che per costituzione dovrebbe giurare lotta al capitale per gli interessi del lavoratore. Vuol dire rinunciare a donni difesa degli interessi nazionali sacrificandoli sull'altare della globalizzazione. Cosa vorrebbe dire lealtà all'Europa? Vorrebbe dire continuare a contribuire come abbiamo fatto fino ad oggi ad un fondo salva banche di altri paesi mentre sappiamo oggi che a tre anni da un tremendo terremoto ad Amatrice è stato ricostruito soltanto il 5% e noi abbiamo dato 60 miliardi in accordi bilaterali con altri paesi per salvare le banche di altri paesi. Lealtà all'Europa vorrebbe dire che il MES, il meccanismo europeo di stabilità potrebbe continuare a chiederci 125 fino a 125 miliardi di euro per ricapitalizzare le banche che traballano. Sapete bene che quella la cifra per cui ha sottoscritto l'Italia ma se a traballare sono ponti o scuole ci rispondono che non ci sono i soldi secondo la logica del pareggio di bilancio che impone allo Stato di spendere solo ciò che ha chiesto ai cittadini anche se dovesse crollare il mondo. Non esiste in Europa un fondo salva popoli. Essere leale all'Europa vuol dire accettare che le iniezioni di liquidità servano soltanto a salvare l'euro nelle mani di banchieri centrali. Vuol dire dare all'Europa molti più miliardi di quelli che ci tornano indietro perché servono a finanziare quei paesi che ci fanno concorrenza e ci sottraggono aziende e lavoro, molti dei quali non hanno neanche la moneta unica. Essere leali all'Europa vuol dire bruciare ogni anno 70 mila milioni di interessi su un debito pubblico che loro manipolano a tavolino usando l'arma dello spread e quindi facendo diventare l'Italia il bancomat d'Europa. Mentre centinaia di imprenditori si uccidono per motivi economici perché lo Stato che paga i banchieri privati poi non paga i lavoratori nel pubblico. Lealtà all'Europa vuol dire lasciare morire 700 bambini di austerity come è accaduto in Grecia purché si sia riusciti però a salvare gli interessi che le banche franco tedesche avevano in quel paese. Questo vuol dire lealtà all'Europa. Ora se siete in buona fede io vi lancio un appello. Vediamo se al PD accettano. Cambiamo soltanto il primo punto perché quel primo punto intercetta e annulla tutti gli altri. Quindi ditegli che non sarete leali con chi non è stato leale con gli italiani ma sarete leali soltanto al vostro popolo. Ditegli che non farete mai gli interessi dell'Europa in Italia ma farete gli interessi dell'Italia dentro o fuori dall'Europa. Ditegli che non sarete mai leali a dei vincoli se si scontrano con il bene e con la sicurezza dei vostri cittadini. Ditegli che non sarete mai leali a dei burocrati non eletti se i loro interessi si scontrano con quelli del vostro popolo e dei suoi rappresentanti. Ditegli che non sarete mai leali a dei diktat imposti da membri ufficiali di organizzazioni del cartello finanziario speculativo ma solo alle richieste che provengono dai cittadini. Ditegli però che tutto questo potrebbe significare meno Europa e più Italia. Pretendete questo come primo punto e vediamo se firmano l'accordo. Ai posteri l'ardua sentenza. Per approfondimenti su chi c'è dietro il PD e su quali sono le logiche del cartello finanziario in Italia vi consiglio la lettura della Matrix Europea, il libro inchiesta che troverete solo sul sito francescomodeo.it. Grazie a tutti.